Tra poco, Harry Mostriciattoli a Disney Junior. Caro Babbo Natale, non vediamo l'ora che tu sia qui. Abbiamo aiutato anche noi, andando a bere la casa. E abbiamo preparato delle decorazioni speciali per l'albero. Abbiamo fatto i bravi tutto l'anno, aiutando mamma e papà. La mamma dice sempre che siamo i suoi piccoli assistenti. Non sappiamo proprio come fai a trovare le case di tutti i bambini. Ma per essere sicuri abbiamo lasciato un segnale per te in giardino. Questo sarà un Natale incredibile. Ti promettiamo di dormire quando sarai qui. Babbo Natale! Buon Natale! Disney Junior, dove la magia ha inizio. C'è un mondo incantato, dove una principessa aspetta proprio te. Io sono la principessa Elena. Tutti i venerdì, preparati per entrare. Benvenuti ad Avalor. In una magica avventura. Sono magica adesso? Con un'incredibile principessa. Elena ci ha salvati. Un eroino. E il mio lavoro è proteggere tutti. Che il suo regno aspettava da te. Oggi hai agito da vera regina. Non perdere i nuovi episodi di Elena di Avalor. Tutti i venerdì alle 7.30 di sera a Disney Junior. Disney Junior, dove la magia ha inizio. Adesso, Henry Mostriciattoli, a Disney Junior. Oggi il sole splende alto, il cielo è...